Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi la rubrica Children Playing, i giochi per ogni occasione, Free Minutes by Van Education, vi propone dei giochi un po' particolari, perché sarà capitato sicuramente a tutti quanti di ritrovarsi o a scuola o a casa durante una giornata di pioggia e quindi non poter uscire all'aria aperta. Nessun problema, abbiamo i giochi anche per questa occasione, quindi armatevi di carta e penna perché oggi infatti faremo dei giochi per cui non è necessario del materiale particolare se non appunto un pezzetto di carta e una penna. Siete pronti? Il primo gioco si intitola La lista degli oggetti. Giocatori, almeno 4. Scopo, vince chi ha più immaginazione. Un prescelto decide un luogo a suo piacimento, ad esempio può essere la scuola, la casa, la spiaggia. I giocatori avranno due minuti di tempo per scrivere tutte le parole che si possono trovare in quel luogo. Devono essere attinenti ovviamente, se un oggetto viene ripetuto da più giocatori non viene assegnato il punto, se la parola invece viene scritta solo da un giocatore, questi riceve il punto. Vince chi totalizza più punti. Secondo gioco, la lettera fuggita. Giocatori, almeno 4. Lo scopo, indovinare la lettera mancante. Si consegna ad ogni giocatore un foglio sul quale sono state scritte tutte le lettere dell'alfabeto tranne una. Potete scegliere se fare quello italiano, ma anche quello inglese. Per rendere il gioco più interessante potete scrivere le lettere in disordine, così da aumentare la difficoltà. Vince chi indovina per primo. Ultimo gioco, dalla Z alla A. Giocatori, almeno 4. Scopo, essere veloci e avere immaginazione. Al via bisogna scrivere 12 parole che inizino con la lettera Z e finiscano con la lettera A. Vince chi finisce per primo. Ti ricordo l'appuntamento fisso sul canale YouTube Van Education tutti lunedì alle ore 18. Ogni settimana pubblicherò un nuovo video sull'educazione a tutto tondo. Protagonisti saranno giochi, laboratori per bambini, didattica, ricette e molto altro. Se vuoi restare aggiornato sui miei nuovi video ti invito ad iscriverti al canale cliccando il pulsante in alto a destra della pagina. Puoi seguirmi anche sul sito web, pagina Facebook, Instagram e Twitter. Enjoy!